Dopo Sendai 2016, nel 2017 il G7 Finanze si terrà a Bari, un'opportunità unica per discutere di crescita, occupazione e diseguaglianza. Così, con un tweet, il Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ha annunciato che il prossimo vertice G7 dei ministri finanziari si terrà a Bari nel 2017. Il gruppo dei sette, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Canada, si ritroverà a Bari dall'11 al 13 maggio. Al summit di tre giorni parteciperanno i ministri delle finanze, i presidenti delle banche centrali, i rappresentanti della Banca Centrale Europea e i responsabili del Fondo Monetario Internazionale. La decisione è ricaduta sul capoluogo pugliese a seguito di una serie di sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi da parte dei rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Sviluppo Economico per individuare la sede che dovrà ospitare il vertice. I lavori si terranno in più sessioni e prevedono anche uno spettacolo serale. I componenti delle sette delegazioni straniere saranno riservati anche giri turistici alla scoperta del territorio. Nei prossimi giorni i rappresentanti ministeriali torneranno a Bari per definire tutti gli aspetti e soprattutto per individuare con certezza la location, forse più di una. Fra le strutture visitate ci sono anche il Castello Svevo, situato proprio nel cuore della città, e la sede della città metropolitana sul lungomare.